Si vuole realizzare una base di dati per la gestione di un sito web per la vendita online di libri, quindi queste solo richiedono il database, neanche l'applicazione. Ogni utente è identificato dal proprio indirizzo email ed è caratterizzato da un nome, una password, un indirizzo, un elenco di preferenze ed un'eventuale domanda utilizzata per il recupero della password. Ogni libro è identificato da un codice ed è caratterizzato da titolo, lingua, anno di stampa, descrizione e prezzo. Ogni libro è classificato come saggio, prosa o poesia. Per ogni libro è nota la casa editrice, ogni editore caratterizzato dall'indirizzo della sede centrale, dall'indirizzo della sede legale, da un numero di telefono. Per ogni libro è inoltre noto un elenco di autori, ogni autore identificato da un codice ed è caratterizzato da nome e cognomi di iscrizione. Si vuole tenere traccia dei libri visualizzati da ogni utente durante un accesso al sito web. Per ogni accesso è nota la data e il loro del contatto. Leggete, si vuole realizzare una base di dati per la gestione di un sito web per la vendita di libri. Quindi ci sarà libro. Poi vado avanti. Ogni utente, perché ci sono gli utenti che sono i clienti, identificato dal proprio indirizzo email. Allora, oltre ai libri ci sono anche gli utenti. Utente. Ha identificato dal proprio indirizzo email. Quindi l'indirizzo email è un identificatore univoco. Vado a mettere l'ID, scusate, l'email come ID di utente. Ed è caratterizzato da nome, password, indirizzo. Quindi devo solo aggiungere questi attributi. Nome. Poi password, nome, password e l'indirizzo. Poi c'è abbiamo detto un elenco di preferenze e un'eventuale domanda utilizzata per il recupero della password. Allora, io intanto metto la domanda per il recupero della password. E l'elenco di preferenze come lo mettiamo? Quali sono gli attributi di questa entità? Io direi di lasciare un attimo in questo speso, questo elenco di preferenze, di cercare di capire che cosa ci sta chiedendo. Perché sì, possiamo mettere un'entità. Sì, oppure magari un attributo dipende. Qua non si capisce perché non c'è il contesto. Quindi. Ogni libro, quindi vado avanti e ci ricordiamo che dobbiamo ancora farlo. Ogni libro è identificato da un codice ed è caratterizzato da titolo, lingua. Quindi è identificato il libro da un codice. Poi ha il titolo. Hanno stampa. Sì, volendo si può fare, non è sbagliato. L'unica cosa è chiederci se per questa classificazione è importante avere un'etità specifica perché magari ci sono delle informazioni. In realtà a me sembrano solo dei valori. Saggio, prosa, poesia. Quindi io metterei un attributo, tipo, tipo di libro. Oltretutto, siccome il testo mi dà anche dei valori specifici, si può mettere anche qui un commento, da parentesi graffio, per scrivere i valori. Per ogni libro è nota alla casa editrice. Allora, siccome anche la casa editrice potrebbe essere un attributo, però, in realtà, se poi andiamo avanti a leggere, leggiamo che ogni editore è caratterizzato dall'indirizzo della sede, eccetera. Esatto. Per la casa editrice non basta il nome, ma ci vogliono altre informazioni. E pertanto questa diventa un'entità. Quindi, casa editrice. Ogni editore è caratterizzato dall'indirizzo della sede centrale, indirizzo della sede legale, numero di telefono, più un ID. Ah, il nome non c'è? Io lo metterei, però. Io aggiungo il nome, perché senza nome proprio non ha senso. Cioè, casa editrice è il nome. E poi il telefono. E se devo fare una ricerca, no? In base alla casa editrice cosa fa? Una ricerca per sede centrale? No, faccio una ricerca per noi. No, ricerca per l'editore, non so, Feltrinelli. Per ogni libro è inoltre... Allora, qua diceva che ogni libro è classificato e ogni editore... Per ogni libro è inoltre la casa editrice. Quindi, il libro è edito dalla casa editrice. Dato un libro, questo è edito dalla... Quante case editrice? Quante case editrici? Quante. Mentre l'editore, ovviamente... Allora, uso un altro termine, perché questo edito pubblica. Quindi, l'editore pubblica. Editore pubblica quanti libri? Da uno a M. Poi, qua ci dice che il libro, per ogni libro è inoltre noto l'elenco di autori. Il fatto che ci sia un elenco di autore e che ogni autore abbia degli attributi significa che autore un'identità. E vado ad aggiungere ad autore gli attributi che mi servono, che sono codice, nome, cognome, descrizione. Ok. Poi adesso collego l'autore al libro. Scrive. Metto, lo metto qua. Scrive. Autore. Libro. Cardinalità. Dato un autore, quanti libri scrive? Come uno? Da uno a M. Ci spera. Dato un libro, da quanti autori è scritto? Uno N. Associazione Montemonti. Si vuole tenere traccia dei libri visualizzati da ogni utente durante un accesso al sito web. Per ogni accesso è nota la data e l'ora del contatto. Allora, qui potrebbe venirvi in mente di fare una cosa del genere. L'utente accede al libro e qua vado a mettere come attributi dell'associazione e non dell'identità sia la data sia l'ora. Ok? E qua avrei che l'utente accede a quanti libri? Uno N. Mentre il libro può essere visto da più utenti, giusto? Però sto andando veloce a fare questo perché tanto vi dico già subito che così non va bene. Non va bene perché vedremo, ok? Le regole di traduzione, questo voi non lo sapete ancora, ma le regole di traduzione di queste due entità in tabelle prevedono che si crei una terza tabella che ha come chiave primaria il codice del libro e l'email dell'utente. Poiché è chiave primaria significa che nella tabella ci potrà essere solo una volta la registrazione dell'utente del libro. Solo una. E non è questo lo scopo. Non so se mi sto sbagliando. Ripeto. Perché non devo andare di fretta anche se scade l'ora. Lo riprendiamo domani, secondo me. Quindi lo riprendiamo domani. Perché questo è sbagliato. Ok? Anche se sembra giusto che è sbagliato. Domani vi spiego perché è meglio perché è sbagliato.